Ciao a tutti dal Salutatore, eccomi qui con Mago Cucciolo! Ciao ragazzi, io ne approfitto per salutare qualcuno visto che sto col Salutatore quindi saluterei tutti quanti i bambini che mi amano e mi vengono a trovare saluterei Gigi Speciale, Saltinbancoanimazione quindi vi ricordo anche il sito www.saltinbancoanimazione.it mettete mi piace sulla pagina del Mago Cucciolo e di Saltinbancoanimazione così ci potrete seguire in tutti quanti gli eventi un saluto e ringraziamento all'Oasy Park, uno dei parchi divertimenti più belli di Roma se non il più bello, è stato un piacere, saluto anche ai Gang of Magic che è uno spettacolo che si fa al teatro Alba tutto il mantolano con 7 maghi migliori di Roma quindi vi invito, seguitemi e cercatemi ovunque, ciao! E ne vedete delle belle, un saluto al Salutatore e da grande Mago Cucciolo Ciao!